Lo so che farò un pippone assurdo ma per quanto mi riguarda bisogna condannare con ogni mezzo le scorrettezze nel mondo dei videogiochi a prescindere è un'azienda di cui siamo fan o la produttrice di un brand di cui siamo fan Ho letto proprio in questi giorni che gli utenti stanno facendo partire una class action contro Cyberpunk 2077 perché il gioco che hanno acquistato non era quello che gli era stato promesso Ragazzi, e di nuovo cascate ore dal pero E che dovrei dire io con Ubisoft, Square Enix, Activision Blizzard e quella fottuta merda di Nintendo Che da anni mi vendono robe senza mantenere le promesse Io trovo la class action contro Cyberpunk fuori luogo Ma se dovesse andare in porto vorrei che ci unissimo anche per avere i soldi indietro perché E' rotta ai coglioni E' rotta ai coglioni Questo schifo avviene solo nel mondo dei videogiochi Nessun altro settore del commercio Ogni volta che acquisto un titolo videoludico È un po' come se io andassi dal concessionario per comprarmi un Alfa Romeo Stelvio Però poi una volta che ho pagato, ho fatto il contratto Loro mi dessero una Fiat 500X Per carità, la 500X è una bellissima macchina È un bellissimo SUV la 500X Ma io ho pagato per una Stelvio Non è la stessa cosa Però nel mondo dei videogiochi sembra che sia tutto normale Ubisoft Ok, non vi parlo di Watch Dogs perché tanto ne avete sentito fin sopra i cavelli su questo canale Sapete quello che penso di Watch Dogs Per via dell'assenza di una meccanica stealth pura come ce l'avevano promesso Assenza di meccaniche di hacking reali Che per assurdo sono più profonde in Cyberpunk E impossibilità di assoltare gli NPC in giro per la mappa Come c'era stato promesso Oltre alla cosa più pazzesca il downgrade grafico Cioè Watch Dogs è una truffa sotto ogni punto di vista Però a parte i primi mesi Tutti se ne sono dimenticati Ma io non mi soffermerò su questo titolo Ma mi soffermerò su un titolo ben più bello e di successo Che è The Division Anche di questo gioco ne ho già parlato abbastanza Però vorrei ribadire in questo video Tutti i concetti e tutte le problematiche che ho riscontrato in questo titolo Perché questo gioco forse è tra i giochi per cui Ubisoft mi ha fatto sentire truffato 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 fino al midollo In sostanza The Division ve lo consiglio Per 3 euro 10 euro comprato Era un bellissimo gioco Merita è divertente Io ho 70 ore sopra Però io il mio pre-order l'avevo fatto per determinate caratteristiche Che mi erano state promesse in sede di E3 In sede di conferenze In sede di articoli Interviste agli sviluppatori Ovvero Nessun sistema survival In tutte le conferenze stampe Ubisoft ha ribadito E gli sviluppatori hanno sempre ribadito Che The Division avrebbe avuto un sistema di survival Stile ARC Stile video giochi survival che andavano nell'epoca Dovevi sopravvivere al freddo Dovevi nutrirti E dovevi fare tutte quelle robe che ti servivano per sopravvivere a questo inverno rigido Che sta all'interno del gioco Una volta avuto pad alla mano Questa meccanica survival è totalmente inesistente Tu puoi lasciare il personaggio fermo in una zona senza NPC E non morirà di freddo e non morirà mai di fame Quindi la meccanica survival è inesistente Sì poi ci hanno dato un DLC con Tentino a solo questa meccanica Ma io la volevo dentro il gioco Fin dall'inizio Come parte integrante del gameplay Miseria Leggendo le recensioni di Sto DLC Tutti hanno detto Porca miseria Questo sarebbe dovuto essere The Division fin dall'inizio No come DLC esterno Nessuno mi aveva parlato di DLC gratuito esterno Sistema tattico tipo XCOM O più simile a quello che si era visto nei primi capitoli Rambo 6 E Ghost Recon Ebbene questa meccanica tattica è inesistente Perché tu nel videogioco sei single player Non hai nessuna IA Non puoi acquisire NPC L'unica cosa che puoi fare di tattico È magari far entrare nella tua partita un amico E giocare con lui E fare le tattiche a voce normalmente Ma non c'è nessuna gestione di A Di truppe di assalto Come l'avevano promesso Cioè non ha niente a che fare con i primi Rambo 6 O con i primi Ghost Recon È neanche minimamente alla lontano Come l'avano descritto loro Un real time XCOM Non c'entra niente con XCOM The Division Zero 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 Sei tu contro i nemici Con un TPS normalissimo Non c'è nessuna sezione tattica Zero Zero Intelligenza artificiale Zero NPC Zero sistema tattico In The Division Altra promessa mancata È il fatto che sarebbe stato un MMO RPG Ovvero In New York sarebbe stata ovviamente a grandezza naturale Manco per il cazzo Però sarebbe stata abbastanza grande la mappa All'interno ci sarebbero stati tanti altri giocatori come te Che tu avresti incontrato E avresti fatto amicizia Entrato in party Proprio come avviene negli MMORPG Che tutti noi conosciamo Quindi la meccanica MMMORPG Totalmente assente Perché ribadisco Questo The Division è un gioco single player È una presa per il culo Non ha niente di MMO E la zona nera Non è MMO Non c'entra niente Col concetto di MMO Che ci avevano venduto Live service Che sarebbe durato 10 anni Altra caratteristica fondamentale Che mi ha spinto ad acquistare il gioco Anzi forse l'unica caratteristica Che mi ha convinto ad acquistare Questo gioco con Season Pass Pagato 120 euro in totale Ho pagato 120 euro questo gioco 120 euro Mettetelo in testa 120 euro Perché Speravo che questi 120 euro Sarebbero stati ammortizzati In 10 anni Di gameplay Perché ci avevano promesso Che sarebbe stato Un videogioco Live service Che sarebbe stato Mantenuto Come una specie di Destiny 2 Warframe E tanti altri titoli similari Sarebbe stato mantenuto Per parecchi anni Con l'aggiunta sempre Di nuove missioni Nuovi DLC E quant'altro Sarebbe stato In continua espansione Invece questo titolo È durato appena Un anno e mezzo Solo un anno e mezzo Nemmeno 5 anni Un anno e mezzo Questa per me è una grandissima truffa Perché ho acquistato questo gioco Per poterlo giocare 10 anni Non un anno e mezzo 10 fottuti anni Mannaggia Su Cristo Porco del Dio Porco del Dio Porco Ma adesso è matto Ma sono matto Sono matto io Mannaggia la Madonna Una santissima E vattene Vattene Ti do qualche cosa in testa Ovviamente Poi è uscito The Division 2 Ma il bello è che The Division 2 Non è un'espansione Tipo Season 2 Del gioco The Division The Division 2 È un gioco Standalone A parte Un secondo capitolo Ex novo Pagato di nuovo A prezzo pieno Quindi una truffa Legalizzata The Division Fino all'ultimo È stato Una truffa Legalizzata E nessuno Ha fatto una Class Action Quindi se dovesse andare In porto La Class Action Per Cyberpunk 2077 La pretendo Anche per Ubisoft È The Division Voglio 120 euro indietro Più danni morali Per aver acquistato The Division Tutte queste caratteristiche Che vi ho elencate Sono le caratteristiche Per cui Ho scelto Di comprare The Division Ma non mi sono state Mai date Mai 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 Date Diablo 3 Diablo 3 Ci avevano promesso Mario e Monti Il ritorno Di Diablo In tutta la sua Essenza Hardcore Hack and Slash RPG Looter E cazzi e mazzi Chiunque ha giocato Diablo 2 Sa cos'è Diablo 2 E chiunque è appassionato Di questo titolo Sa cosa voleva Di Diablo 3 Cosa si aspettava Oltre alla grafica Migliorata Si aspettava Un sistema Di gioco Abbastanza complesso Profondo Con varie classi Comunque Si aspettava Un Diablo 2 Espanso O perlomeno Diablo 2 Modernizzato Invece qui Non abbiamo avuto Nenzi tutto ciò Diablo 3 E semplicemente Un cazzo di Hack and Slash Looter Che cammini Avanti Tra un po' Non lo riconosco Da Dynasty Warriors Mi viene da dire Perché mi devo comprare Sta cacata di Diablo 3 Quando potevo Permettermi Un Dynasty Warriors Non ha nemmeno L'unghia Della profondità Che aveva Diablo 2 Ma Chiudiamo un occhio Perché sappiamo Che la gente moderna Non gli piace giocare A giochi complessi Quindi ci può stare Che l'hanno alleggerito Ma la cosa Che più fa incazzare Che al giorno d'oggi Una promessa Non è mai Mai stata mantenuta Molti acquirenti Di Diablo Se non lo sapete Diablo 3 È stato acquistato Da molti utenti Perché era stata promessa Una modalità Arena PvP Ma Una mappa Di gioco Grande Seria Non è mai Stata implementata Mai 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 Stato implementato Arena PvP Come è concepito In Diablo 2 Mai Eppure Molti utenti Hanno acquistato Questo gioco Solo per giocare Ad Arena PvP E tuttora Dopo ormai Sette anni Dall'uscita Tuttora Non sappiamo Se verrà Se verrà mai Implementato Ma ormai Abbiamo perso La speranza Perché sta uscendo Diablo 4 Quindi Supponiamo Che la promessa Non sarà mai stata Mantenuta Quindi facciamo Una class action Ad Activision Blizzard Per Diablo 3 Pubblicato da Square Enix È il gioco più merdoso Che io abbia mai giocato È una merda immonda Eppure è sviluppato Da Yoko Taro E invece Nada Ha fatto un gioco rotto Che non funziona Manco per il cazzo Se spinge un tasto Risponde dopo tanto tempo Le boss fight Sono impossibili Da completare Perché Ci sono cali Di framerate Pauroso Un gioco rotto Dall'inizio Alla fine È rotto E dopo 5 anni Ancora tutt'oggi È rotto Questo gioco E non può essere Che viene considerato Uno dei migliori giochi Della storia Dei videogiochi Un gioco rotto È così merdoso Cioè È veramente uno schifo Cioè Big Rigs È tanta roba In confronto a Nero Automata Cioè E dai Ah Mi sono dimenticato Sì Gioco su PC Quindi da PC gamer Pretendo una class action Il gioco dovrebbe girare Anche su PC Me l'avete venduto per PC? Mi aspetto Che la versione PC funzioni Tutt'oggi Nero Automata Se volete comprarlo Vi sconsiglio Di acquistarlo per PC Perché è la versione Peggiore Che potete mai acquistare Di questo Titolo di Yoko Taro Nintendo 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 per mesi Quando si stavano avvicinando I rumor Nei news Riguardo al lancio La nuova console NX Il presidente La buonanima Di Vata Ci aveva promesso Che la console Wii U Sarebbe stata mantenuta Fino al 2020 Senza problemi Per altri 5 anni Sarebbero continuati A uscire i titoli First party Sarebbero continuati A essere mantenuti I server E sarebbero continuato A funzionare Normalmente La console Invece Ivata Ci ha preso Tutti per il culo Io ho acquistato Wii U Nel 2015 Per poter giocare Splatoon Nella consapevolezza Che Splatoon E Smash Bros Sarebbero durati Comunque Almeno 5 anni Quindi avrei giocato Per almeno Altri 5 anni Nonostante sarebbe uscita Quella che poi Abbiamo scoperto Essere Switch E invece Non è andata così Nel 2017 Già era stato Smantellato tutto Wii U Dal 2017 Ha smesso di avere Nuovi giochi Pubblicati Sulli shop Anche di first party Non sono più usciti First party Praticamente È stato dimenticato Addirittura Splatoon I server Sono stati Abbandonati a se stessi Perché è ovviamente Uscito Splatoon 2 Nel 2017 Quindi hanno Tutta la forza Del team Si è spostata Su Switch E mi sono trovato A giocare Un gioco Che mi piaceva Il gioco Per cui ho comprato Wii U Ovvero Splatoon Senza La massima qualità Per cui avevo pagato La console 300 euro Più gioco Da 50 euro Mi sono stati Soldi buttati Nel cesso Ma semplicemente Perché Ivata La buonanima Di Ivata Mi ha truffato Mi aveva promesso Che la console Sarebbe stata mantenuta 5 anni Invece è stata mantenuta Solo 2 Fottuti anni Ho potuto giocare I videogiochi Per solo 2 anni E per giunta Quella console Io l'avevo comprata Per avere Metro Prime 4 Zelda Smash Bros Splatoon E altri titoli Smash Bros Ormai c'è L'ultimate Quindi se voglio giocare Sono obbligato A passare a ultimate Per giocare competitivo Splatoon Se voglio giocare Devo passare al 2 Per giocare competitivo E la cosa E la cosa che più Mi fa incazzare È che hanno fatto uscire Un Zelda Diverso da quello Che avevano promesso Più castrato Con meno funzionalità Perché doveva girare Anche su Switch Quindi io la trovo Una mancanza di rispetto Verso noi acquirenti Da parte di Nintendo Una truffa Legalizzata Di cui nessuno si è lamentato Perché ovviamente Le console sono state poche Noi pochi acquirenti Di Wii U Dovremmo unirci In una class action Contro Nintendo Per farci dare I nostri 300 euro indietro Oppure Ci regalassero Una cazzo di Switch Regalata L'accetto la Switch Ma pagare 300 euro Dopo che mi ha truffato Questa azienda Che ne pensate Queste sono alcune Delle mie problematiche Che ho avuto Nel mondo dei videogiochi Alcune delle volte In cui mi sono sentito Truffato E mi fa ridere Che la gente si sia Sentita truffata Solo stavolta Semplicemente perché Cyberpunk 2077 Non gira sulla loro Console old gen Mentre altre aziende Non hanno mai subito Nessun danno Quindi se dovesse andare in porto Io pretendo Che queste aziende Mi diano i soldi indietro Quelle che ho citato In questo video Se dovesse andare in porto La class action Contro Cyberpunk Voi da che aziende Vi siete sentiti truffati Fatemelo sapere Nei commenti E se vi è piaciuto il video Condividete Se non vi è piaciuto Condividete insultandomi E mi raccomando Mettete mi piace Iscrivetevi al canale E cliccate sulla Campanellina Fanculo Ubisoft E cliccate sulla In questo video In questo video Mi raccomandarsi è un punto di primo Existente Come